Persi. Persi non aveva mai pensato al signor D come a una presenza tranquillizzante, ma all'improvviso tutto si ammutò lì. I macchinari si bloccarono, le belve feroci smisero di ringhiare. I due lopardi si avvicinarono, continuando a leccarsi i baffi per il brasato, e strofinarono affettuosamente il muso contro le gambe del dio, che gli grattò le orecchie. E Fialte, uccidere i semi dèi è un conto, ma utilizzare i leopardi per lo spettacolo? Questo è troppo. Il gigante mise una specie di squittio. Questo è... è impossibile! Bacco a dire il vero, vecchio mio. E ovviamente è possibile. Qualcuno mi ha detto che c'era una festa in corso. Aveva lo stesso aspetto di quando si erano incontrati in Kansas, ma Persi non riusciva a capacitarsi delle differenze tra Bacco e il suo non troppo amico di lunga data, signor D. Bacco era più efficiente ed energico, con una pancia più contenuta. Aveva i capelli più lunghi, un passo più baldanzoso e una buona dose di rabbia in più nello sguardo. Riusciva persino a far sembrare minacciosa una pigna su un bastone. La lancia di Fialte tremò. «Sparisci, in nome di Gea!» Mmm... Bacco non sembrò affatto colpito. Passeggiava tranquillo in mezzo al materiale scenico, tra le piattaforme e gli effetti speciali distrutti. «Volgare!» Indicò con un gesto vago della mano un gladiatore di legno dipinto. Poi si girò verso un macchinario che sembrava un marello gigante tempestato di coltelli. «Dozzinale! Noioso!» «E questo?» Osservò il marchigegno lanciamissili, che stava ancora fumando. «Volgare, dozzinale e noioso!» «Sinceramente, Fialte, non hai il minimo stile!» «Stile?» Il gigante avvampò. «Ho una valanga di stile! Sono io che definisco lo stile! Io... io...» «Mio fratello trasuda stile da tutti i pori!» suggerì Otto. «Grazie!» gridò Fialte. Bacco fece un passo avanti e i giganti arretrarono. «Vi siete rimpiccioliti o sbaglio?» «No, questo è un colpo basso!» ringhiò Fialte. «Sono abbastanza alto da distruggerti, Bacco! Voi dei vi nascondete sempre dietro i vostri eroi mortali e affidate il destino dell'Olimpo a gente come loro!» Soghignò in direzione di Percy. Jason sollevò la spada. «Divino Bacco, uccidiamo questi giganti o... beh, lo spero proprio!» rispose il Dio. «Proseguite pure!» Percy lo fissò. «Non sei venuto qui per aiutarci!» Bacco si strinse nelle spalle. «Ho apprezzato il sacrificio in mare!» «Una nave intera piena di Diet Coke! Buonissima! Anche se avrei preferito la Pepsi!» «E sei milioni in oro e gioielli!» bofonchiò Percy. «Sì!» confermò Bacco. «Anche se per i gruppi di semidei di cinque o più persone la mancia è inclusa, per cui non era necessario.» «Cosa?» «Non corta!» tagliò Corto Bacco. «Comunque, ne avete attirato la mia attenzione! Sono qui! Adesso devo capire se vi meritate il mio aiuto! Iniziate pure! Combattete! Se ne rimarrò impressionato, mi butterò nella mischia per il gran finale!» «Ne abbiamo infilzato uno!» ribatte Percy. «Ne abbiamo fatto crollare il tetto sull'altro! Cosa significa per te impressionante?» «Ah, bella domanda!» Bacco tamburellò le dita sul tirso. Poi sorrise in un modo che ha persi non piacque per niente. «Forse vi serve un po' di ispirazione! Il palco non è stato allestito bene! Lo chiami spettacolo questo, e fialte? Ti mostro io come si fa!» Il dio si dissolse in una nebbia violacea. Anche Piper e Nico scomparvero. «Piper!» gridò Jason. «Bacco, dove diavolo!» L'intero pavimento rimbombò e cominciò a sollevarsi. Il soffitto si aprì in una serie di pannelli. La luce del sole entrò a fiotti. L'aria scintillò come un miraggio. E Percy udì il ruggito della folla. L'ipogeo salì attraverso una foresta di colonne di pietra corrose e si erse in mezzo a un anfiteatro in rovina. Percy ebbe un tuffo al cuore. Non era un anfiteatro qualunque. Era il Colosseo! I macchinari per gli effetti speciali dei giganti avevano fatto lo straordinario, disponendo numerose assi sopra le travi di sostegno, per cui l'arena aveva di nuovo un pavimento vero e proprio. Le gradinate si restaurarono da sole, finché non tornarono di un bianco scintillante. Un gigantesco baldacchino rosso e oro si aprì in alto per offrire ombra e riparo dal sole del pomeriggio. Il palco dell'imperatore era drappeggiato di seta e fiancheggiato da stendardi e aquile dorate. Il boato degli applausi proveniva da migliaia di scintillanti spiriti violacei. I lari di Roma, riportati sulla scena per un grande bis. L'arena si riempì di sabbia e si corredò di enormi scenografie. Montagne di cartongesso grandi come garage, colonne di pietra e animali in plastica a grandezza naturale. Un laghetto apparve su un lato, mentre diversi fossati attraversavano in lungo e in largo il pavimento dell'arena, casomai a qualcuno venisse voglia di darsi alla guerra di trincea. Percy e Jason erano insieme a fronteggiare i giganti gemelli. «Questo sì che è uno spettacolo!» esclamò Bacco. Era seduto nel palco dell'imperatore e indossava una lunga veste viola e una corona di alloro dorata. Alla sua sinistra sedevano Nico e Piper, quest'ultima accudita da una ninfa con la divisa da infermiera. Alla destra di Bacco era covacciato un satiro e gli porgeva patatine e grappoli d'uva. Il dio sollevò una lattina di Diet Pepsi e la folla ammutò lì rispettosamente. Percy lo fulminò con lo sguardo. «Tu rimani seduto lì?» «Il semidio ha ragione!» gridò i fialte. «Combatti tu contro di noi, codardo! Senza i semidei!» Bacco sorrise con indolenza. «Giunone sostiene di avere radunato una bella squadra di semidei. Dimostratemelo! Fatemi divertire, eroi dell'Olimpo! Datemi una ragione per impegnarmi ancora! Essere un dio ha i suoi privilegi!» Quindi aprì la lattina e la folla esultò.